Confermato, battuglia c'è. Sassi oggi, sospirità, confermato. Grazie per la visione. Sì, sospirità, confermato. Confermato, battuglia circoscritta. Avvio circoscritta, confermare, confermato. Dillustrazione circoscritta. Avvio battuglia, confermare circoscritta. Confermato, battuglia circoscritta. Confermato, battuglia circoscritta. Confermato, battuglia circoscritta. Confermare, confermato, battuglia circoscritta. Confermato, battuglia circoscritta. Confermato, battuglia circoscritta. Confermato, battuglia circoscritta. Fermato, abbio pattuglia. Avvio pattuglia. Confermare circoscritta. Confermato, pattuglia circoscritta. Avvio circoscritta. Confermare. Confermato, sono contenti. Messaggio a circoscritta. Confermare. Confermato, avvio pattuglia. Confermare. La scheda ha funzionato, Alex. Sono nell'ascensore. Ringrazio Genus. Ha detto che le comunicazioni wireless sono bloccate vicino alle camere blindate, quindi presto perderemo il contatto. Non devo farmi scoprire o devo uccidere tutti. Capito? Solo finché non sarai all'interno della camera della Versa Life e non avrai inserito la barra nel terminale. A quel punto Genus ti contatterà. Mi ha fatto caricare un mucchio di malware per riuscirci, ma prima devi raggiungere la stanza d'accesso e richiamare la camera blindata. Se vieni fermato dalla sicurezza... ...di contatti. Forse, ma sono anche quelli più controllati. Quelli che devono sottostare a un sacco di regolamenti. Per fortuna, quando devi rispondere solo agli azionisti e pensi soltanto al profitto, riesci per vedere il mondo in modo completamente distante. A noi arriva. Che cosa vuoi sapere? Tracciamento a piedi. Sei solo un attivo alla sicurezza. Anzi, al lavoro. Accesso consentito. Inizio con un ortegno. Confermato. Inizio con un ortegno. Possibile codice 0 qui vicino, confermare Confermato, possibile 0 Vado a rianimare Cambiare e ingazzare stabilire Credo ad ir Legge Coraggio Recorso Liberazione Grazie. Grazie. A nuova linea rilevata. Tracciamento avviato. Accesso consentito. Grazie. Grazie. Anomalia rilevata. Tracciamento avviato. Accesso negato. Grazie. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti